Ciao a tutti e ciao a tutti, bentornati, bentornati sul mio canale Per chi è nuovo, sempre che ci siano dei nuovi Io sono Paolo Bianchi e faccio video sui VGF e anche sui Me Contro Te Ma lo faccio veramente sui Me Contro Te Dettate che devo adeggere sia la telecamera che giocare, quindi perdonatemi Allora, ho fatto un pavimento un po' colorato perché non mi andava di mettere tutto diamante Allora, non ho messo granché nella prima stanza, tanto non sapevo che metterci Allora, nella seconda ho fatto tutti i vari letti che hanno i VGF Aspettate, chiudo la porta Ok Poi, cioè non ho fatto granché, ho messo stanto... Ah, intanto seguitemi su Instagram, mi chiamo gobanti23 E poi ho altri social, scusate Cioè, ho TikTok, ho Wattpad che sarebbe un'applicazione sia per leggere che per creare libri Cioè, dipende da che cosa vuoi creare Allora Poi Qua ho messo le volpi Poi qua... Aspettate un attimo Ed eccomi, qua ho messo i polli Poi qua ho messo i papagallini Poi i conigli Mushroom E poi qua ho messo tutti gli animali, c'è pesce, palla, salmone e roba del genere Poi sopra Aspettate che se riesco a non far danno Allora, qua ho fatto quelli più principali Aspettate che chiudo e muovo la porta Vada Qua ho messo una crafting table Praticamente poi ho messo una fornace C'è un coso per ascoltare la musica ma non l'ascoltano Tanti WGF hanno una versione più Diciamo Più avanzata della mia Poi qua ho messo diverse cose Tanto per riempire un po' Poi Cose varie Tipo, come vi dicevo, pesce con tropicale Ho messo il merluzzo Il salmone E poi pesce palla Nella gabbia di prima Poi sopra Aspettate che Sto adeggiando la telecamera Qua ho messo diverse cose che potrebbero servire Che poi non sono tanto esperta Quindi le ho messe un po' a caso Quello è il mio letto Queste Seguiteli tutti su Instagram Poi vi lascio i loro I loro account personali Poi qua Aspettate, scusate Ok, eccomi Chiudiamo di nuovo la porta Allora qua ho messo soltanto Un coso per incantare E diverse casse Cioè ho messo Aspettate, ecco Ho messo diverse cose un po' inutili Per riempire Cioè Ve lo dico Non sono tanto brava Poi Ecco Anche qua Cioè campane Banco per Aspettate Impennatura Aspettate Il mio accento non è proprio perfetto Ecco qua Poi qua ho messo i letti Ah Questo video si chiamerà VGF Metal Mami È un vostro amico da molti anni Perché lo conoscono praticamente da 8 anni Perché è nuovo Ah Vi consiglio di guardarli Perché fanno dei video Che mi fanno divertire Poi Qua ho messo diverse cose Poi Smeraldi Ho messo Stella del Net Ho messo un po' tutto Anche nell'altra è strappiena Ecco Perfetto Ho messo diverse cose che potrebbero servire Poi non Non so tanto Le ho messe tutti accanto Per far capire che Mario È nel gruppo E che quello che ha fatto con l'intruso Non l'ha fatto di sua spontanea volontà Per chi non sapesse la vicenda Va da vedere Sì Sia la prima serie della Fakerat Che la 2 Che la 3 Il Ragnone vi saluta Allora Per ora ho finito Lasciate like Iscrivetevi al canale Se anche voi una volta nella vita Avete conosciuto i VGF di faccia Perché ci sono alcuni Che non la mostrano Per privacy Probabilmente Come io Per oggi è tutto Da Paolo Bianchi Out